Sono un po' commosso perché io ho voluto questa cosa in tutti i modi insieme a Gualberto, ho visto tanta gente, ho visto tutte le autorità e proprio tutte e quindi ecco sono diciamo al settimo cielo. Tutti commossi a Ponte Buriano soprattutto convinti che la strada sia quella giusta. In questa frazione del comune di Arezzo che ospita il ponte della Gioconda è stato infatti inaugurato il museum Leonardo e l'Aretino dedicato agli studi del professore Carlo Starnazzi prematuramente scomparso legati alla presenza di Leonardo da Vinci in terra a retina. A tagliare il nastro le massime autorità cittadine in rappresentanza innanzitutto del governo la senatrice Donella Mattesini e l'onorevole Marco Donati della regione Toscana l'assessore Vincenzo Ceccarelli e la vicepresidente del consiglio regionale Lucia De Robertis. Il presidente della provincia di Arezzo Roberto Vasai e ancora il presidente della Camera di Commercio e vicepresidente di Union Camere Andrea Sereni. Assieme a loro e alle rappresentanze dei comuni di Arezzo, Subiano e Castiglion Fibocchi anche tanti cittadini che hanno voluto visitare per primi il museo. Siamo circondati da tante persone che hanno conosciuto Carlo, lo hanno apprezzato, lo hanno ammirato e gli hanno voluto bene. Quindi è un ricordo della persona, dello studioso che tutti abbiamo nel cuore. Tutta la città deve qualcosa a Carlo perché Ponte Puriano non è altro che una parte di Arezzo, Arezzo è una parte della regione Toscana, la regione Toscana è una parte d'Italia. Quindi speriamo che possa esserci un riscontro in turismo, quindi un maggiore incremento economico e che qualcuno si renda conto che forse è una risorsa anche dal punto di vista economico. Il museo sarà visitabile su prenotazione, è un centro vero e proprio di documentazione aperto a tutti i visitatori. Al suo interno, oltre ad una sala multimediale, anche una macchina idraulica funzionante realizzata da un artigiano del luogo su disegno di Leonardo e riprodotto dall'ingegnere Fulvio Viviani. E ancora un busto dedicato a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, che non era sprovveduto di architettura e soprattutto di ingegneria, ha colto perfettamente la caratteristica che rende questo ponte unico. Cioè il fatto che avesse i bastioni, o chiamate anche pigne in toscano, che arrivavano per esempio fino al piano di Calpestio del ponte stesso. Mentre i ponti medievali avevano queste pigne appena un metro sopra il livello di massima piena. Questa è una caratteristica interessantissima e particolare che Leonardo ha colto e che solo il ponte riburiano ci ha. Posso tranquillamente affermare che il ponte rappresentato nella Gioconda ha effettivamente la tecnologia esattamente uguale a quella del ponte riburiano.